Iniziamo con gli occhi aperti. Ora parlerò ad ognuno di voi. Quindi trova la tua posizione comoda. Sistema il tuo corpo, i piedi ben piantati a terra. Ora appoggia le mani sulle ginocchia o sulle cosce e prendi consapevolezza del tuo respiro. Per il momento tieni gli occhi aperti. Senti il tuo respiro. Senti la bellezza. E la pienezza dell'atto respiratorio. Rilassa le spalle. E porta il mento leggermente in dentro. E facendo un respiro profondo, adesso chiudi gli occhi. E quando sei ad occhi chiusi, respira e senti l'energia che scorre nel tuo corpo grazie al tuo respiro. e nota come il tuo respiro genera facilmente un senso di benessere, di pace. E' una cosa. Di centratura. Quando inspiri, porti in te energia, prana, chi, mentre quando espiri lascia andare le residue tensioni, le residue emozioni negative, lascia andare immaginando proprio che il tuo corpo si svuoti di tutto ciò che è disagiante. Ora mentre quando inspiri il tuo corpo si riempie di benessere, di pace e mentre continui a respirare porta l'attenzione al tuo corpo, ai piedi, risali alle cosce, alle gambe e senti la tua presenza dai piedi fino all'osso sacro. E poi sali nella zona dell'addome, del petto fino alle spalle e anche qui porta la tua presenza, la tua attenzione, la tua energia. Poi riscendi al bacino e adesso risali lungo la colonna vertebrale, sali fino alle scapole e alle spalle e alle spalle e anche qui porta la tua attenzione, la tua energia in tutto il tuo corpo. e dalle spalle scendi alle braccia, alle mani e a ogni singolo dito e poi dalle spalle risali e vai al collo, al viso, alla bocca, alle guance, alla fronte e infine al cuoio capelluto. mentre la tua presenza e la tua attenzione riempiono tutta la testa. e adesso porta la tua consapevolezza in tutto il tuo corpo contemporaneamente, dai piedi fino alla testa, dalla testa fino alle mani e nota quella leggera sensazione di benessere, leggera pace, presenza, come se anche la mente fosse più tranquilla. abbiamo lavorato insieme oggi, mosso energia fatto entrare energia e fatto uscire energia condiviso energia per riequilibrare tutto il tuo sistema energetico e adesso e adesso puoi percepire l'energia che fluisce armonicamente nel tuo corpo nutriendo ogni cellula e rinforzando al massimo dell'efficienza il tuo sistema immunitario la tua corazza protettiva la tua corazza protettiva che nessun virus o agente patogeno può assolutamente scalfire adesso sei nella massima protezione adesso immagina che il tuo corpo è circondato anche da un alone di luce che filtra e lascia passare solo le energie di vibrazione altissima sono energie di bene di amore di gratitudine di pace mentre qualunque energia esterna di vibrazione bassa legata alle paure delle altre persone alla rabbia delle altre persone al senso di colpa al dispiacere al dispiacere tutte queste emozioni vengono bloccate all'esterno di te ora sei in questo uovo di luce protetto e qualunque emozione negativa vaghi nell'etere e sul pianeta a causa di tutto quello che sta accadendo non ha nessuna influenza su di te in questo momento nella tua bolla di luce tu sei a contatto solo con emozioni positive solo con il benessere con la fiducia la gratitudine la consapevolezza del tuo potere personale le tue infinite risorse per affrontare per affrontare al meglio questo periodo il potere è in te il potere è in te sei un'anima amata e protetta e così è e così è e così è e così è grazie 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 e mentre fai un bel respiro profondo piano piano dolcemente ritorna da questa meditazione e goditi queste sensazioni piacevoli al prossimo respiro solleva le braccia verso il cielo e al prossimo respiro ancora abbassi le braccia e torni qui carico di un'energia nuova grazie 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 grazie